ben ritrovati come d'incanto lo studio si è trasformato e accanto a noi che siamo un po' più sopraelevati ci sono due autentiche splendide bellezze del calendario omonimo bellezze venete abbiamo il piacere di salutare anche in questa mattinata con sette in punto Giulia e Sara benvenuta grazie potete anche parlare perché avete piena e libera facoltà di parlare anche perché parlano il vostro aspetto parla il vostro aspetto per voi ma come diceva giustamente Paolo Braghetto vuole anche dimostrare che ci sono delle ragazze dotate di un cervello della capacità di esprimersi di parlare allora la domanda fatidica per rompere il ghiaccio e non le acque come diceva qualcuno come come è andata questa esperienza cioè voi vi siete presentate un casting ma vi eravate illuse dicevate ma non ce la potremo mai fare con che animo siete partite cominciamo da chi cominciamo allo stesso ecco hai parlato cominciamo con Giulia allora io sono molto testarda e se mi punto in un obiettivo riesco sempre a raggiungerlo quindi mi sono impegnata ho partecipato ai casting e alla fine è la buona notizia che sono stata presa e sono stata felice e ricordiamo Giulia la identificheremo adesso con il mese di marzo per cui insomma chi fosse interessato Giulia è il mese di marzo invece Sara è nel pieno dell'estate agosto per te Sara come è andata è stata una bellissima esperienza e ho partecipato a questi casting con l'idea non di riuscire ad arrivare alla fine però ho detto vabbè partecipiamo lo stesso e mal che vada riproverò l'anno prossimo e invece dopo è andata benissimo caspita poi si è diventata anche il mese di agosto per cui è il momento cruciale cocente di questo calendario un calendario lo ricordiamo tutto da scoprire bellezze venete 2016 avete sentito paolo braghetto art director ne ha parlato insomma anche come di un traguardo trionfale quello dei dieci anni probabilmente no dieci anni fa eravate già nate voi vero sì a parte degli scherzi quali sono le si l'hai già detto Giulia tu sei particolarmente testarda e tu Sara sei un po meno testarda o in fondo anche tu sei anche tu decoccio se mi pongo un obiettivo faccio di tutto per riuscire a portarlo alla fine nel migliore dei modi la cosa bellissima che ha detto paolo braghetto è stato che si è creato un gruppo di amiche per cui c'è anche questo poter vivere l'esperienza in un clima che non sia da coltelli affilati l'una contro l'altra insomma questo penso pensiamo che sia stato bello vai tu Giulia sì all'inizio non conoscevo quasi nessuna ragazza e dopo si è creato un'amicizia comunque partecipando anche alle varie serate e sono stata felice non vi guardavate come si dice in cagnesco ma tu sei più bella tu sei più alta più non c'è mai stato questa competizione diciamo però si si è creato si sono create alcune amicizie senti Sara ma le sconfitte cioè con che spirito le avete viste perché sai si parla sempre delle vincitrici di quelle che riescono ad arrivare ma di quelle che non arrivano avete visto qualcuna che piangeva qualcuna presa dallo sconforto l'avete cercato di consolarla come è andata che piangevano no però comunque riceverò delusione sì esatto delusione ce n'è stata ma voi siete nuove a esperienze di questo tipo avete già fatto qualche altro casting chi parla delle due allora per me è la prima volta che ho fatto un calendario però ho già fatto molti concorsi e sempre nel campo della moda quindi però la prima volta di un calendario così tu sarai esperienze anche io come calendario la prima esperienza però ho già partecipato a diverse sfilate di moda concorsi di bellezza senti quando vi siete viste nel calendario perché sai un conto e fare il casting tutto il la procedura delle fotografie quando vi siete viste non vi è venuto un po il senso di dire guarda siamo improvvisamente trasformate perdonate l'espressione un po pesante in carne da macello forse un po esagerato un pochino assai no ma essere messe là in bella posa in bella mostra non so vi siete sentite un po esposte o l'avevate messo in preventivo che comunque per quello che facevate inevitabilmente diventavate di pubblico dominio appunto lo sapevamo già all'inizio poi le foto sono anche le foto bellissime anzi se possiamo anche rivederle dicevamo con paolo prima sono sensuali ma nello stesso tempo senza essere volgari per cui insomma anche le nostre due meravigliosi ospiti propongono quello che di bello ha dotato loro madre natura però sempre sempre con quel garbo con quella eleganza ecco le vedete per esempio qui c'è giulia se non andiamo errati sì abbiamo appena visto il mese di marzo tra poco vedremo anche sarà bellissime ragazze che però insomma non devono mettersi nude per per dire siamo belle insomma già riescono a sedurci e ad affascinarci soprattutto e i genitori come la mettiamo nel senso come l'hanno presa mamma e papà perché si pensa sempre a questo esercito di persone che magari è dietro le macchine fotografiche le telecamere che sono lì che insomma pendono un po dalle labbra delle figlie no i miei genitori mi hanno sempre spronato comunque si e mi hanno sempre accompagnato anche i casting sono felici anche di questo risultato un ottimo risultato lo stesso per te anche perché a scopo benefico quindi sempre giusto ti stavamo vedi interrompendo nel momento più non più significativo insomma non è che possiamo adesso dire ma ci sono delle belle ragazze rimaniamo sempre sensibili al fascino femminile però giustamente come diceva giulia c'è anche questa finalità benefica che insomma diciamo fare del bene a qualcuno molto importante ecco per cui il calendario assume tutto un altro significato anche da questo punto di vista e tu sarà anche tu hai una famiglia che ti asseconda contentissimi mi hanno assecondato sempre sia in questa scoperta diciamo del calendario che in tutte le sfilate che ho fatto e non posso lamentarmi sentite e come si ritorna alla vita di tutti i giorni dopo un'esperienza del genere bella domanda ci sentiamo un po' margiullo quando facciamo queste riflessioni ma insomma margiullo il famoso conduttore dell'ente televisivo pubblico ma insomma sono domande che inevitabilmente solgono spontanee no giulia beh io non mi vanto mai anche a scuola dicendo fatto un calendario così c'è una ragazza normale che studia e vuole portare avanti gli studi quindi ma magari ti è mai capitato che so un compaio di classe parliamo di maschi che magari veda ti veda senza aver saputo prima che tu avevi partecipato per cui una sorpresa magari fa fatica a riconoscerti poi a un certo punto guarda meglio vede il nome dice ma è lei o non è lei sì hanno visto sulle foto comunque cioè non hanno fatto commenti negativi comunque anzi anche loro mi sostengono sì per quello sì a Sara volevamo chiedere sì come è stato l'impatto dopo il casting con la macchina fotografica con chi ti immortalava in queste pose hai avuto una donna un uomo un uomo come è stata cioè c'è un po di non diciamo imbarazzo ma insomma avere a che fare con una persona sconosciuta che ti immortala che ti spia in qualche modo si diciamo che è comunque c'è un attimo di imbarazzo nel senso che comunque se davanti una persona che non conosci quindi di conseguenza è normale che ci sia un po di questo pudore diciamo però io sono già abituata a fare vari servizi fotografici quindi diciamo che ero imbarazzata però nello stesso tempo ero tranquilla per cui vi vedete in qualche modo proiettati in quest'ambito beh Giulia diceva io penso anche lo studio ovviamente sì 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 anche perché insomma nella vita è esatto senza quello infatti beh insomma voi voi pensatelo fra molti e molti anni sentite ci avete dato voi l'input cosa ne pensate di questa chirurgia plastica ormai dilagante tutte queste donne che non diciamo a 60 anni con tutto il rispetto per le 60 anni ma già a 30 35 anni noi capiamo che lo spettacolo abbia le sue esigenze ma il fatto di vedere queste donne che non solo sono tutte plastificate ma sono tutte uguali perché sembrano delle repliche no dei cloni cioè immediatamente quella è rifatta si nota si nota subito anche lontano un miglio si nota per esempio nella faccia non c'è più espressione non riesci più a ridere perché sei completamente plastica sì ci suggerivano alcune domande dal dietro le quinte una cosa che volevamo chiedere adesso non ci viene più in mente ah sì ecco paolo braghetto prima ha anticipato una cosa che avete degli hobby un po particolare usate ma qui la curiosità inevitabile cominciamo da sarà allora io come hobby particolare pratico pole dance pole dance vuoi tradurre sarebbe uno sport a tutti gli effetti però tanti la associano alla lap dance cioè la danza con il palo in poche parole però non ha niente a che vedere con la lap dance infatti questo è sempre un palo c'è sempre il palo però questa è tutta di forza per cui tu cosa fai con questo palo cioè ti sollevi mi sollevo riusciamo a fare diverse figure ed è abbastanza impegnativo anche perché ci vuole tanta forza sia di addominali di braccia caspita magari a vederla così sembra molto facile invece non lo è per niente sapete sono impressionanti quei quei ginnasti no che fanno quelle figure anche non so quando aprono le braccia gli anelli infatti con il palo è uguale praticamente e tu giulia hai qualche palo anche tu che ti attraversa la strada quotidiana no io faccio un hobby più quotidiano diciamo che a me piace molto fare i dolci ah che bello hobby ma prediligi qualche tipo di dolce non so sei brava a fare la sacher il tiramissù no il tiramissù mi viene molto bene sì anche la crostata e la fai la crostata con cosa la crostata di marmellata di albicocca di albicocca quelle scure non le fai prugne ma anche comunque cambia solo la marmellata quindi insomma sono due bellissimi hobby uno magari un po più faticoso l'altro che richiede più diciamo abilità nelle mani e i risultati quali sono con i tuoi dolci buoni sì bene a proposito di chirurgia plastica uno dei prossimi giorni incrociate un manager un grande manager che vi dice sì voi siete carine ma scusate l'osservazione dovete rifarvi il seno cosa gli rispondete allora prendiamo la rincorsa per la risposta io sono sempre dell'idea contro cioè sono contraria perché se ma se mia mamma mi ha fatto così avrò alti punti di forza ma poi scusate avere dei degli impicci plasticati diciamo così insomma siliconati o cosa del genere cioè deve essere anche qualcosa che dal punto di vista della salute non è che faccia vedere perché poi bisogna pensare che questi te li porti a presso fino a che vivi insomma insomma abbiamo scoperto tante cose importanti in un ultimo lobby che ci aveva già segnalato Paolo Braghetto a ribadendocelo benissimo noi siamo arrivati in conclusione di questa nostra puntata siamo estremamente grati a Paolo che ha portato queste due ragazze e a queste due ragazze che si chiamano Giulia e Sara di aver accettato il nostro invito per questo vi facciamo il migliore in bocca al lupo perché tutto nella vita possa andarvi nel migliore dei modi è logico che gli inconvenienti ci saranno sempre ma con la vostra tenacia e la vostra forza si può andare veramente avanti grazie a Giulia e a Sara grazie mille grazie a voi che ci avete seguito set in punto si conclude dunque nel segno della bellezza e del sorriso delle nostre gradite ospiti noi ci fermiamo qui tra poco la seconda parte di set in punto in cui cambieremo decisamente argomento a tra poco